Io, niente, mia stava a tre stelle. Ma che c'entra a tre stelle? No, signor Pretore, vuoi una cancella? È un successo di Claudio Villa. Che siete, mamma mia! Cancelliere, no, noi cominciamo col canto, va bene. Dica, dunque, lei lo sa, no? Noi stavamo lì tutti quanti così. Allora lui dove fa? Dice, ma tu? Io. No, dice, quando arrivi il bubo biondo, a me. Dice, ma tu? Ah, no! Allora, l'è risata, signor Pretore, che stesse lo fa? Dice, pensate che figlio... E l'ingua parla? È un romanesco un po' paesano, amalgamato, come se fosse. Continui. Perché lui a un certo punto dice, io a te... A me? Ma io figure da te te faccio. È un caesare. Ma quale che dice? Ma quale? No, te faccio due occhi. Ma io non lo capisco. È un tipo simbete che costruisce le tue. Cosa vuole dire? Lei non ha detto qualcosa. Se lei lo capisce, traducalo. No, secondo lui è tutto un... Prego, prego, va bene. E allora è successo che quello così, quell'altro invece, io no. Allora dice, che volevo fare? Ah, ah, non c'è sempre quello. Ha scritto tutto? Che cosa fa tutto? Veda, signor Pretore, il mio cliente, vorrebbe dire tutta la verità, ma purtroppo, poverino, soffre di totale ammenesia. Ammenesia! Ammenesia! Ammenesia, è debole di memoria, è malfermo. Ma quale è malfermo? Tieni, guarda, io mi reggo pure sulla camera solo. Ma quale è debole di memoria? Signor Pretore, io aspetto a me. Ma inanti, io farei il suo avvocato per me. Ma sì, allora tu. Mi è nato. Mi cazzo. E allora si scrive. E mi faccia parlare. Parlerà dopo, dopo, dopo. Ma come, signor? Mi cazzo. Sì, 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 4 anni.